Sessantottesima mostra internazionale d'arte cinematografica, incontriamo qui allo spazio fondazionante dello spettacolo uno degli interpreti del film Terraferma di Emanuele Cranese in concorso, Filippo Scarafia, un giovanissimo autore di 21 anni. Come è stata la tua prima esperienza cinematografica? E' stata sicuramente emozionante perché comunque ti trovi a confronto con uno degli autori che è più considerato uno degli autori d'elite del nostro periodo. Quindi come prima esperienza è stata sicuramente incredibile e istruttiva allo stesso tempo. Comunque passare tre mesi in un'isola che è molto piccola e quindi a stretto contatto quasi familiare con un autore del genere e con attori del calibro di Beppe Fiorello, Donatella Finocchiaro e Claudio Santamaria, lo stesso Filippo Pucillo. E' stata un'esperienza realmente bellissima perché comunque ti permette di imparare e, perdonami il termine, di rubare un sacco di cose, di appiglia a quali poi ti puoi attaccare in futuro nel lavoro. Ecco, quindi è stata veramente un'occasione incredibile che ho avuto appunto di lavorare in questo film. Sei stato fortunato ma hai un percorso sicuramente alle spalle precedente, se lo racconti un attimo. Sì, io ho studiato recitazione per sette anni all'incirca ad Arezzo, anche se comunque la passione per il cinema e per questo mondo viene da quando sono bambino e quindi nasce da lì che poi la recitazione è stata un mezzo per combattere la timidezza, questo è anche vero. Poi col passare del tempo è diventata un'aspirazione quella di poter fare questo mestiere. Quindi dopo i sette anni di accademia ad Arezzo ho tentato di entrare nelle accademie quali il centro sperimentale Silvio D'Amico e poi ho avuto la fortuna, anche lì perché consigliato, di trovare un'insegnante che era meglio per me, per come era stato sempre il mio lavoro. E quindi è stata lei più che altro ad aiutarmi a poi affrontare i provini, a crescere anche nel mio mestiere. Quindi sì, ecco il percorso è stato abbastanza lungo e anche abbastanza insomma in salita. Un percorso in salita sicuramente visto che da poco hai finito di girare per un film tv Anita interpretando il ruolo di Mameli. Il ruolo di Goffredo Mameli è stato forse quello più atteso e sperato perché sarà per la risonanza che ha avuto comunque il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia che comunque ha portato un grande interesse sia nel pubblico che nell'Italia, nei personaggi storici che sono stati quelli che hanno combattuto e in questo caso come Goffredo sono morti per portare l'Italia alla libertà, alla Repubblica. Il ruolo di Goffredo Mameli è stato decisamente il più interessante da affrontare perché c'era obbligatorio uno studio del biografico e storico del personaggio un personaggio che a 21 anni aveva già fatto una vita straordinaria, era nell'esercito, era veramente presente cosa che probabilmente io che ho 21 anni come lui quando è morto non mi sentirei mai di paragonarmi a lui proprio perché sono ovviamente due epoche differenti però è proprio impossibile trovare un parallelo mentale con personaggi che erano disposti a tutto piuttosto di arrivare a un risultato che era quello poi della Repubblica, della libertà e quindi è stata un'esperienza di quella veramente incredibile. Noi ti facciamo in bocca al lupo per tutto e noi di cinematografico.tv continueremo a seguirti. Grazie.